Io e Jeroenia abbiamo scelto di mettere il nostro diario segreto sul video. Preferisci vaniglia o cioccolato? Vaniglia? Questa è la strada dove l'ho baciata la prima volta. Ho fatto una stronzata, ma quel video l'ho girato per mio padre. Sei la merda peggiore che abbia incontrato in vita mia! Il segreto della felicità in amore non è essere ciechi, ma sai per chiudere gli occhi quando è necessario. Che fai lassù? Niente, faccio un piccolo tour dei pianerotti. Scusa, Guillaume, stasera non si scopre. Scusa, Guillaume. Ma in quella fase mi deprimo, mi abbuffo, dormo, piango. Sono come lui, giro in tondo da quando se n'è andata. Non ce la faccio senza di te. Preso che? Per le palle. Quindi non la ami? Ma sì che la amo, l'amo da impazzire. I fumetti dopo un po' basta. Si deve crescere, diventare adulti. La magia del primo amore è ignorare che finisce in poche ore. Forse ho trovato. Taglia, 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 cazzo, taglia. Porca puttana, colpisci mi, cazzo! Sono Hulk, merda. Perché ti sei travestito da maiale? Ora basta, non sono un maiale, sono super porca. È scritto qui. Ho perso tanto tempo con quei video. Jeremy, sono io. Potremmo prenderci un caffè? Per parlare un po', perché è una cosa stupida questa. Video diario giorno 1. Siamo Lelà e Jeremy. ゴhi, sono size che per parlare. Ma sì? Sono note。 Direi uguale. Quattro, 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 tre. Quattro, quattro, quattro e sciug. Quattro, quattro, comune, sceug. Quattro, 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 in compatri